Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi continua la saga di Overcooked 2, la co-op con la special guest Pookie Pookie. Buona visione. Ok, andiamo. Mettiamo le ali, sei pronta? Vai. Tanti questi sono i tuoi quadri preferiti, quelli con le ali. Qua è 700? What the fame! What the fame! 700, nuova ricetta. Oh, la torta! La torta! Con il miele. Dobbiamo fare la torta. Unisci a farina uomo con miele, carote o cioccolato a fette e i metti in forno. Madonna, mi sono già confuso. Va bene. Allora, il miele lì sotto, il cioccolato è da sopra. Quindi la farina è sempre. Farina. Ma il miele va messo dove? Ma dove sono? Aspetta. Farina. Il miele si aspetta. Ah, aspetta, possiamo fare così. Ok. Ma che caccia? È cioccolato. Dove l'è? Farina, farina, cioccolato, uova. Cioccolato? Quindi farina. Ma che c'è visto che il miele si aspetta? Ma le uova già le avevi messe? Ma lo stai facendo, no. Eh, ho messo due uova, scusa. Che fai? Ti suicidi? Cioè, per due uova ti suicidi? Cioè, due uova! Ti sei suicidata per due uova. Non è colpa a me? No, no, è il panico qua. C'è il fuoco. C'è il fuoco che ti impedisce delle affane. Le affane. Esatto. Eh, lo devo buttare di nuovo. Quando cipo spregato. I bambini poveri. Eh, pensi agli affamati, pensi agli affamati. Allora. Madonna. Ma cosa ho visto che devo tagliare il miele? Ah, praticamente lo posso passare di qua io. Dal tappi roulon. Poi lo prendo aglio e non lo posso lanciare, però. Ma non si possono spegnere questi vulcanoli? Ma che cacchio serve? Non si può spegnere questi vulcani? Ma ci deve essere sempre uno con il tintore perché... Sì, infatti. Allora. Qua cosa manca? Ma poi cosa ci devo fare con questa? La devi mettere in forno. Allora, tu hai fatto quello. Poi ci vuole un miele. Ah, il miele si deve affettare? Sì. Ma che senso... È da me tu che lo sto dicendo. Mi serve un cioccolato. Dove sta il cioccolato? C'è troppa UI qui dentro. Allora. E' un'andata. Oh! Oh! Adesso ti sei bloccata, vero? Ecco. Però per questo facciamo così. Aspetta, ti sblocco, eh. Sì, ma non ci voleva il cioccolato. Come no? Non fa niente. Ce n'ho una col cioccolato, pure. Ce n'aveviamo una col cioccolato. Signor sì. Comandi. Comandi. Lavo i piatti, allora. Per punizione. Aia! Non ti uccide, bravo. Mi sono dato un colpo alle cuffie. Aspetta che faccio un po' di spazio per la farinaccia. Uno e due. Ce l'abbiamo un piatto? Sì. Attenzione, il tortone! Bella però è la torta, eh. Non so perché mi hanno spostato un coso. Non lo so. Io al momento sto cercando solo di sopravvivere. Farina. Grazie. Prego. Farina. Non c'è di che? Astantore. Voi, l'estintore, i piatti da lavare e tutto il resto. Li faccio io i piatti, levati! Vabbè, fallitore. Vabbè. Tu stavi seguendo gli ordini. Perché io non so adesso dove sono arrivata. Non lo stai a mappiatti, non lo vedo. È qua sotto, vicino al coso. Porca. Questo cosa devo fare con questo? Metterlo in forno. Molta, molta calda. Posso essere ancora una persona migliore. Esatto, lo faccio, prendo questo e lo consegno. Ci ha dato pure la mancia. Ok, questo... Guarda, un po' di coraggio ci ha dato la mancia. Collider. Ok, aia. Mi sento picchiato a morte. Non ce l'ho con te, ce l'ho contro il consumista. Allora, il consumismo. Un torto. Panico, panico, panico. Ok, io consegno questa torta. Non so che ordine era, ma la consegno. Poi ci vuole un uovo. Va bene, lo stesso. L'altro uovo. La farina ce l'hai una? Mi serve l'altra? No, ce l'abbiamo tutte. Ok, perfetto. Vai. Uno e due. Boom. Barabim, barabam. Io prendo il piattone, lo lavo a nonne. Ok. Ok. Ma non rompere le scafole a merenda proprio. Perché non mi sono messo una carota? Beh, eh, eh. Ah, buona il coso. Ok, preso. Va bene. Vai, bravo. Che è? Ah, 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 ah. Carota. Carota. Eh, non me lo fa infornare adesso. Lo devi frullare con la carota. Porca miseria. Annaggia. La bindella capra. Allora. Ah. Allora, questo lo mettiamo qua. Una farinaccia. E la bindella capra. Allora, ah, ah, sto cadendo, non voglio cadere. Ok. Eh. Questo lo porto qua. Aspetta che arrivo con la istra... Ah, non arrivo più. Non ne sono accorta. Però prendo questo. Dai, dai, consegniamo il carotone. Nino? Lo consiglio, Tonino. Esatto, Tonino carotone. Vai, consegnato. Dai, dai. Ganzo. Perché ti sei suicidato? Non ti ho spinto, non ti ho spinto io. Non direi bagianate. Non sono stato... Non ti ho spinto tu. Esatto. Dai, dai, dai. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ma guarda che non siamo andati male. Sì. Non è andata male. 504. Mamma mia. Ok, allora, dobbiamo... Renderci la vita più... Che è successo? Dobbiamo renderci la vita più semplice. Davvero? Allora... Il cane ci guarda con dispiacere. Ci guarda e scuote la testa dicendo no, no, no. Ok. Allora, io prendo la farina. Ok, io faccio il resto. Uno. Due. No, te. Tre. Ma no, ma... E te l'ho passata. Eh no. Ok. Ma cazzo. Ci penso io qua, se lo va a tagliare. Vai, 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 vai. Vai a me. Vai andata in the face. In the face. Attenzione. Siamo così, pam. Ok. Carota. La... Il miele dove va? In tutte e due? Sì. Dammi un altro. Miele e il cioccolato. Prende... Tu estingui. Estingui. Allora. Questo. Ok. Questa è pronta. Si può infornare? Carota, sì. L'altra ci vuole il cioccolato, però. Eh, che pesa. Ci penso io, ci penso io. Tu si distingui. No, no. Ce l'ho già il cioccolato. Ah, ok. Vabbè, lo preparasci. Questo lo prendo. No, stai fermo, stai fermo. Eh, ma lo devi marinare, però. Eh, ha sta caldo. Mi sei, eh? Eh, sono fermo. Non sto a fare niente io, eh. Stai facendo tutto tu. Ma io consegno... Mi ho detto la cosa è grave. Allora. Io spegnamci. Vai, infornanci, infornanci. Pensa dal forno, pensa al forno. Eh, dimmelo che sei bloccata, che ti spengo. E' la più importante il forno, ecco. Eh, per una giusta causa. Ti ho salvato per una giusta causa. Quindi, io consegno adesso questo. Allora. Questo. Estintore. Quanto tempo io ho i piatti? Ok. Un farina. Qua c'è un farina. Qua ci manca, è cioccolato. Un nuovo. Dov'è l'estintore? Minchia, ora che mi serve l'estintore non c'è. Ok. Ok. Vado a salvare quello. Ah, cacca. Vai, 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 vai. Ah! Non lo so. Va bene. Il cioccolato c'è qua già tagliato, eh? Eh, sì. Dove devo metterlo? Qua? Qua. Vai. Poi serve una farina. Ah, no, questo era il mio. Vabbè. Vabbè. Miele. Sicuramente serve il miele. Farina. Sicuramente serve... No, non serve questo. Serve il miele. Serve il miele. Questo verrà qua. Questo qua ha farina, cioccolato e... Miele. Miele, miele, miele. Uno qua. Uno qua. Con il miele. Dov'è l'estintore? Mannaggia. Vabbè, ci stai tu agli ordini, dai. Vabbè. Tu dimmi quello che ti serve che io... Faccio. Vai il cosino. Non c'è il cosino. Questo lo sposto e lo inforno. Vai. Ok. Che buono. Poi c'è uova e... Miele. Io faccio... Servius. La farina. Te la prendo io. Te la prendo io. Grazie. È l'estintore, è l'estintore, è l'estintore. Ok. Grazie. Ok, poi... Lavo il piatto. Poi c'è il carota. Aspetta che estingo sto fuoco perché altrimenti non possiamo prendere più niente. Ok, questo è pronto. Questo qua. Tolgo questo. Vai, vai, vai. Ti do un'altra ciotola. Grazie. Arrivo con l'estintore perché adesso non ti muoio più. Vai. Farina. Farina. Arriva. E poi il miele. Questo è pronto. Mi servono i piatti. Vai. Ti ho attivati. Ok. Allora, sicuramente uno. Ahia. Sono rimasto bloccato qua. Eppure io. Faccio così, faccio prima. Ma te pare. Uno. Ce la faccio, ce la faccio. Salvo lui e poi prendo te. Ok. Salvo lui e vengo da te. Vai. Grazie. Prego. Allora. Piatto ricco mi ci ficco. Allora, questo da consegnare. Questo è qua. Questo va qua. Ok. No. Oh, signori. 5,23. Due stelle sono rimanate. Due stelle porta a casa. Devo rendermi più utile. Hai fatto troppo tu. Allora. Facciamo così. Io ti passo farina e taglio. Ok. Così facciamo prima. E tu fai quello che ti serve. Tu dimmi cosa ti serve. Mettimeli sui cosi. Sì. E il cioccolato mi serve. Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. E poi i miei di molti. Oh, che cavolo. Ti vedo tutti. Mettiamo miele. Mi piace qua. Grande. Facciamo così. Ci mettiamo un piatto qua. Un altro piatto. Lo mettiamo qua. Ah, lo stintore. Ti ho la farina. Eh? Pintore. Vai. No. Consegno. Non è andata. Uovo. Dai, mettilo, mettilo. Uovo. Uovo. Miele. 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 Ma porca. No, è possibile così. I cacchi di fuochi. Miele. E miele. Maledetto. E miele. Guardi qua. Io li c'ho di fuochi. Li c'ho di oro? Ah, li c'ho di fuochi. Non è vero che come ho fatto prima. Cioè, io sempre con l'estintore ti passo solo falina. Eh sì, perché se no. No, che non mi riesco a fare con niente. Vabbè, allora. Ok, io ti estingo sempre il coso, però ti taglio anche le cose. Esatto. Però taglio soltanto quando tu vuoi. Ok. E tu dimmi, cosa ti serve però? Che io taglio i osa, tipo. Ah, ho sbagliato. Ho messo una cosa che non dovevo mettere nel tappi rullano. Soprattutto ho visto una persona cadere. Questo è andato a farsi benedire. Doveva ricominciare. Vabbè, ricominciamo. Wow, è un casino. Allora. Allora, tu ho fatto di l'estintore e di... L'estintore, farina e cottura. Esatto. Ok, come prima. Va bene. No, però se no non ce la facciamo. Sì, 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 va benissimo. Allora, io ti passo la farina intanto. Anzi, te la metto direttamente nelle ciotole. Uovo e uova. Piatto te lo tolgo da qua. Scusa. Te lo tolgo da qua. Ti prendo un cioccolato. Che non si sa mai. E te lo taglio già. Prendo... Anzi, faccio così. Quello lo lascio ancora. Ti devi passare? Sì. Ah no, scusami. Eeeh... C'è già, c'è già. C'è già? Qua. No, ok. Poi. La cottura è mia. Prenditi la ciotola, prenditi la ciotola. Vabbè, te la porto io. Cosa è? Vatti a prendere l'altra ciotola. Ok. Adesso. Farina. E piatti. Farina. L'altra è lì, eh. Brava. Ok. Non c'è lì. Ma va a cagare. Adesso ti stingo. Sì, sì, arriva, arriva. Ti stingui? Sì. In che senso? Preso, salvato. Te lo rimetto e metti il miere, dai. Vai. Ok. Ok. Un po' inquietante. Cosa? Allora. Ok. Ci manca per la rosa. La rosa. La taglio io, la taglio io, la taglio io. Ok, la taglio io. Attenzione, che qua sto facendo? Carota è già pronta. Adesso estingo. Ok, la carota è lì, eh. Ok. Prendo piatto. Ok, vai. Aspetto. Fatto. Fatto. Consegno. Via. Estingo. Ok. Ok, quello non mi interessa. Ok, questo uovo. Oh, no. Questo qua. Uovo. Cosa ti serve? Carota. Arrivo, 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 arrivo. Sì. Ma non vi è che facciamo a darmi. Poi. Permesso. Grazie. Un uovo. Una farina. Arrivo. Via. Piatto. Ricco. Mi ci ficco. Farina. Via. Ah, il piatto ce l'abbiamo già pronto. Lavato. Perfetto. Lo prendo, lo porto di là. Ti aiuto qua. Via. Ah, questa è una ciotola vuota. Aspetta che arrivo con l'estintore. Ok. Via. Mi ha messo. Grazie. Aspetta la vuota, dov'è? Qua. Ok. Ah, mamma! Ok, vai, metti sto miele. Allora. Che cavolo. Vai. Ah, io ho tante botte, mister. Mi siete i picchi. Aiuto, scusa. No, vai tranquilla, vai tranquilla. Ci siamo quasi. Aspetta che prendo l'estintore. Vai, 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 vai. Puoi passare. Vai, Grinio. Grinio. Portati la ciotola. Ok. Uno ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Sì, 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 sono il re. Vai, vai. Sono il re. Non lo so, è uscito così. No, lo faccio. Tu mi hai mai aiuto, scusa. È un re cipolla. È un re a pugno. Allora, grazie. Signori, ce l'abbiamo fatta. 803. No, no, no. Yeah, we did it. No, no, no. Grazie a tutti